Grazie a tutti, ci hanno presentato un piano strategico per lo sviluppo, così come viene chiamato, sostenibile del sistema territoriale costantilale, il piano equilineo è una punta che potete anche familiarizzare, con immagini e relazioni, è composto di alcune decine di paesi, non so di più, con una relazione di fattibilità. Non ci sono, dico subito, non ci sono, rispetto a quanto detto fino ad oggi, discusso ampiamente, non ci sono grandi comitati, il fatto che si tratta di, non lo dico nel senso negativo, lo dico per dare, per chiarire che non ci sono, non spuntano altri alberbi, tutti gli alberbi previsti sono quattro nel piano, quattro nuovi alberbi, sono previste le strutturazioni, sono previste un centinaio di mille, di cui 30 di altissimo prestigio, con semplicemente quindi anche dimensioni di levanti, e invece le altre 70, ovviamente mille di prestigio, però di dimensioni più normali. C'è il progetto che prevede la riqualificazione dell'area di protocerco, con tutta una serie di interventi, ci sono le schede, poi naturalmente potete fare anche delle foto e le schede stesse, di fatto c'è un raddoppio della recettività della costa generale, perché nel quattro parlo della costa generale è in crisi alla società del Catania, perché avevamo usciti a 400 costi detto complessibili, 4 delberbi attualmente, alla fine dell'investimento si arriva a 900 costi detto, quindi è una doppia. Interessante come vengono sviluppati le tipologie di alberbi, perché prevedono di fare un hotel nella zona del Ferbero, di circa 90 camere, un albergo nell'area della zona di Sciaruglia, di circa 150 camere, poi quello che loro chiamano un family hotel di circa 200 camere, quindi per un certo tipo di clientela, se vi vogliono un certo tipo di clientela, e poi mi permetto di dirlo, seppure questo è il buongiorno, è il comune di Olbia. Il family hotel è il comune di Olbia? No, quello che sto per dire è il young people hotel, quindi un albergo per giorni. In che zona? E c'è anche la ragione di Olbia. Ah, ecco, questo è un po' di Olbia, in senso, no? Però questo è il mio, quello è il mio, quello è il mio, quello è il mio. No, quello è il 150 stanzi sopra l'area di Sciaruglia. È interessante come si schiaccia un punto strategico rispetto alle tendenze, diciamo, alla necessità di dare nuovo all'infatto, l'ultimo della nostra strada, già nella contribuzione dei barbieri. La parte che più ci interessa come amministrazione, ovviamente tutta ci interessa, ma è quella che riguarda proprio l'infrastrutturazione di servizio. Infatti c'è, rispetto a chiare lettre, nella città strategica l'impegno a procedere in tal senso, quindi nuova viabilità, oppure a modellamento della durabilità esistenza, fisico-ciclabili, interventi di sistemazione, di implementazione del sistema fognario, sappiamo tutti quale nodo e questo è il fungo della zachena, e anche del sistema tipico. Interventi nelle aree, anzi costruzioni di nuove aree parcheggio, e sappiamo anche questo che è il problema serio di vento nell'arco della stagione estiva, e sono indicati tutta una serie di aree di parcheggio, non solo nell'ambito della costa operata, ma soprattutto nell'area del villaggio di Porto Cervo. Molto interessante è per valutare anche il progetto di riconificazione di Porto Cervo, dove al di là di qualche foto uscita questi giorni c'è tutta una serie di interventi, anche qui per rendere la stessa Porto Cervo molto utilizzabile, ma soprattutto la parte che noi ci stavamo d'accordo, prendo un'analisi di attività, mi piace che non vengono bene a tutti a passeggiare in loro. Se non avete domande sui temi particolari, guardate a quello che più interessa.